RealThinkcome quest'anno come ogni anno è stato un diffugio sicuro poiché i mercati sono diminuiti drasticamente ma il prezzo delle azioni di RealThinkcome in realtà è leggermente aumentato rimasto quasi stabile e continuato comunque a fornire il proprio rividendo. A questo punto converrebbe chiedersi se visto che è andata quasi contraria al mercato se non sia opportuno vederla per orientarsi su azioni più inclini alla crescita oppure se è il caso di tenerla come sempre se stai fino alla fine ti dico cosa faccio io Ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario IEF e autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo volessi acquistare dove vado a raccontare la mia esperienza da addebitato seriale a investitore e risparmiatore incallito. Il portafoglio di Realty Income è composto da oltre 6.700 proprietà che generano ricavi da locazione da contratti di locazione appunto a lungo termine che sono fatti principalmente da inquinini commerciali tra i più grandi nomi del panorama mondiale e soprattutto statunitense come ad esempio World Green Boots Alliance, CVS, Dollar Tree solo per citarne alcuni. Per chi non lo sapesse Realty Income è stata fondata nel 1969 ma si è andata a quotare sul mercato azionale nel 1994. Ha un impressionante track record di aumenti dei propri dividendi e l'ho reso parte di un gruppo d'elite di 65 società al mondo che vanno a comporre lo standard del PUR 500 dividend aristocrat cioè le società dello standard del PUR 500 che hanno aumentato i propri dividendi da almeno 25 anni consecutivi e per il fatto che distribuisce il suo dividendo mensilmente è stata definita con il marchio registrato di The Dividend Company. Quali potrebbero essere i rischi nel tenerla visto che come ogni azienda ci sono sempre dei rischi correlati. Ad esempio l'attività è già molto grande rispetto ad altri RITs che sono presenti sul mercato globale questo è enorme e questo potrebbe impattare fortemente sui livelli della crescita futura che sono sempre regati in questo settore principalmente all'acquisizione di nuovi immobili. Un altro rischio è semplicemente il rischio di tasso di interesse in particolare Realty Income ha contratti di locazione a lungo termine con scale mobili integrate ma gli aumenti delle scale mobili sono piccoli e un'inflazione elevata come quella attuale potrebbe comunque esercitare una certa pressione sui margini di Realty Income. Ciò potrebbe creare sfide ma man mano che l'azienda interpende in nuove acquisizioni le tariffe potrebbero essere comunque commisurate al mercato e le vecchie tariffe alla fine aumenteranno perché comunque saranno sostituite da quelle nuove. Inoltre da un punto di vista del prezzo delle azioni e per cui della sua valutazione Realty Income è relativamente costosa rispetto appunto come dicevo prima ad alti REITs e competitor che sono attualmente sul mercato anche se rispetto al valore che può dare agli azionisti non è detto che per questo sia costosa. Per esempio Realty Income viene scambiato a un multiplo prezzo FFO rettificato quest'anno e il prossimo più alto rispetto ai suoi attuali competitors semplicemente perché è un'attività molto più sana cioè meno rischiosa rispetto ad alti REITs. In parte il multiplo è anche più forte perché il prezzo di Realty Income ha sovra performato la maggior parte di altri REITs suoi competitors che sono finora sul mercato e comunque in questo anno dato che il periodo che si sta evolvendo in questo anno è appunto bearish o comunque al ribasso e questo ribasso è anche dovuto al fatto che ha la sua capitalizzazione che viene percepita come la Apple dei REITs o come la Microsoft dei REITs per cui è particolarmente economico rispetto ad altri REITs ma questo perché Realty Income è notevolmente più sano. E' anche molto importante notare da un punto di vista della propria valutazione che Realty Income ha ancora una crescita prevista dei propri AFFO, gli Adjusted AFFO che è positiva per cui questo è anche il prossimo anno è una notizia che potrebbe invogliare chi vuole investirci. Ultimo punto bisogna chiedersi se il suo dividendosino sia sicuro partendo dal presupposto che niente è sicuro a parte la morte e le tasse si può comunque affermare che non è al momento in pericolo. Il confronto di Realty Income con i suoi pari, con i suoi competitors nella lista delle dividend aristocrat americane, che ricordo sono le società dello standard pool 500 che hanno aumentato il proprio dividendo per almeno 25 anni consecutivi, colnisce prospettive e spunti molto interessanti. Infatti Realty Income ha il sesto dividend yield più alto di tutte le 60 aziende presenti in questo indice ma ha anche prodotto un rendimento totale positivo quest'anno, segno che viene percepita comunque come sana come azienda e come stabile dalla maggior parte degli investitori, soprattutto in periodi neri come quello che si sta avendo questo anno. Con un rendimento che ha dato il 70% di 10 anni per cui circa un 7% anno in cui si vanno a sommarsi anche dividendi sicuramente si può dire che si tratta di un'azienda matura che fornisce rendimenti costanti ai propri investitori senza ovviamente andare a sovraperformare quelle aziende growth che magari nello stesso periodo di tempo hanno fornito rendimenti rigolarmente più alti, vale il 300 400 500 per cento in pochissimi anni. Ma se sei su questo canale molto probabilmente sei come me e sei interessato più alla costanza che a un trading iper additizio nel brevissimo periodo. Per cui come vedo io Realty Income come investimento? A mio avviso Realty Income rimane interessante per una serie di ragioni fra cui la sua posizione finanziaria è molto solida, la propria strategia aziendale incentrata sull'acquisizione sempre prudente e la sua incredibile crescita di dividendi che è costante anno dopo anno come la sostenibilità che questi hanno e la sua valutazione attuale che è molto interessante. Per non parlare del fatto che le proprie aspettative per la sua attività immobiliare rimangono molto interessanti a causa delle proprietà in posizione privilegiata che in gran parte non sono vulnerabili alla tendenza dello shopping online che invece altri titoli di riz devono affrontare come ad esempio quelli concentrati sulle attività commerciali e sui centi commerciali molto grandi. Pur essendo cresciuta la reputo un investimento interessantissimo per cui non andrò a vendere la mia posizione di Realty Income anche se devo dire che al momento non l'andrò ad aumentare ma solo per il momento perché credo che debba scendere qualcosina in più per avere modo di andare a migliare il prezzo al mio vantaggio. E tu hai Realty Income in portafoglio? La volevi aggiungere? La volevi vendere? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Se questo video come sempre è stato il tuo gradimento ti chiedo la cortesia di farmelo capire supportandomi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo youtube per farmi crescere sulla piattaforma a te costa veramente un attimino un battito di ciglia ma per me significa veramente il mondo. Se sei nuovo poi ti consiglio di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene anche per oggi è tutto e non mi resta semplicemente che salutarti e dirti arrivederci ad un nuovissimo video. Ciao a presto! Ciao a presto!